Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per materiali dispersi e rallentamenti tra Firenze Scandici e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A12 per lavori 2 km di coda tra Pisa Centro e il Pibio per la 11 in direzione Genova. Code a tratti tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Sulla Fipilì. Code in uscita a Lastra. Segna in direzione Mare per traffico intenso. Sur accordo autostradale Siena-Firenze. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Chiudiamo con i traghetti per avverse condizioni meteo cancellati i collegamenti Piombino-Cavo-Porto-Ferraio delle 16.05. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.